Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Come promesso nel video precedente dove andavo ad analizzare le sfide della decima settimana Oggi vi farò vedere dove trovare i 7 pezzi del puzzle presenti nei seminterrati di Fortnite Vi allego questa mappa così da farvi vedere dove si trovano Qui sono indicati 8 pezzi del puzzle così da avere più scelta E per chi volesse vedere in maniera più dettagliata questi luoghi Vi lascio una serie di clip per farvi vedere dove i puzzle si verificheranno Spero che il video comunque vi piaccia Mettete un bel like e condividetelo con i vostri amici Bella Ciao 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 经ribili